La gestione dei timesheet in Netflix permette di tracciare quante ore si lavorano su ogni singola pratica, o comunque di tenere traccia di tutte le attività e le ore spese. È possibile creare dei timesheet liberi andando sulla sezione timesheet sotto agenda, cliccando su nuova attività e inserendo semplicemente l'attività senza collegarla a nessuna pratica. In questo modo si è creata un'attività della durata di un'ora non allegata a nessuna pratica. Se vogliamo allegarla alla pratica possiamo riaprire la scheda, cercare la pratica che ci interessa e confermare. In questo modo l'attività viene tracciata sotto la pratica. Possiamo creare timesheet ovviamente anche direttamente nella scheda pratica. Quindi cerchiamo la scheda pratica, andiamo nella sottosezione timesheet e clicchiamo su nuova attività e l'azione documento. Possiamo creare una finestra temporale più ampia e il software automaticamente calcola quante ore sono state necessarie per svolgere un'attività. Dopo aver creato le varie attività è possibile fatturarle direttamente. Andiamo su fatture, nuova fattura analitica, selezioniamo i vari dati generali e dalla voce importa selezioniamo timesheet. Il software calcola in automatico l'importo basato sulla tariffa oraria dell'utente e la nostra parcella o fattura è emessa.